Letture del giorno 1 gennaio 2023 nell'ottava di Natale Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio Prima lettura Porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò Dal libro dei numeri Il Signore parlò a Mosè e disse Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo Così benedirete gli israeliti e direte loro Ti benedica il Signore e ti custodisca Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace Così porranno il mio nome sugli israeliti e io li benedirò Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Dio abbia pietà di noi e ci benedica Dio abbia pietà di noi e ci benedica Su di noi faccia splendere il suo volto Perché si conosca sulla terra la tua via La tua salvezza fra tutte le genti Dio abbia pietà di noi e ci benedica Gioiscano le nazioni e si rallegrino Perché tu giudichi i popoli con rettitudine Governi le nazioni sulla terra Dio abbia pietà di noi e ci benedica Ti lodino i popoli o Dio Ti lodino i popoli tutti Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra Dio abbia pietà di noi e ci benedica Seconda lettura Dio mandò il suo figlio nato da donna Dalla lettera di San Paolo Apostola ai Galati Fratelli Quando venne la pienezza del tempo Dio mandò il suo figlio nato da donna Nato sotto la legge Per riscattare quelli che erano sotto la legge Perché ricevessimo l'adozione a figli E che voi siete figli Lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori Lo spirito del suo figlio Il quale grida Abba, padre Quindi non sei più schiavo Ma figlio E se figlio Sei anche erede Per grazia di Dio Parola di Dio Rendiamo grazie a Dio Alleluia, alleluia Molte volte E in diversi modi Nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri Per mezzo dei profeti Ultimamente In questi giorni Ha parlato a noi Per mezzo del figlio Alleluia, alleluia Vangelo del giorno I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino Dopo otto giorni Gli fu messo nome Gesù Dal Vangelo secondo Luca Gloria a te o Signore In quel tempo I pastori Andarono senza indugio E trovarono Maria e Giuseppe e il bambino Adagiato nella mangiatoia E dopo averlo visto Riferirono ciò che del bambino Era stato detto loro Tutti quelli che udivano Si stupirono delle cose dette loro Dai pastori Maria da parte sua Custodiva tutte queste cose Meditandole nel suo cuore I pastori Se ne tornarono glorificando E lodando Dio Per tutto quello Che avevano udito e visto Come era stato detto loro Quando furono compiuti Gli otto giorni Prescritti per la circoncisione Gli fu messo nome Gesù Come era stato chiamato Dall'angelo Prima che fosse concepito Nel grembo Parola del Signore Lode a te o Cristo just importanti La chiamata La chiamata La chiamata La chiamata La chiamata